Un uccello del terrore, alto due metri. E pronti allo scontro. E la storia delle grandi lotte per la sopravvivenza e delle dinastie che hanno dominato il mondo. Un uccello del terrore, alto due metri. 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 Le mosse sono coordinate, formali, quasi una danza. Chi sarà il primo a cedere? O ad attaccare? Niente li trattiene e lo scontro è inevitabile Ma hanno compagnia La scaltrezza dello smilodonte contribuirà all'estinzione di questi uccelli La concorrenza sia all'interno che all'esterno della specie ha sempre stimolato l'evoluzione Altri superstiti dell'asteroide si erano evoluti Non più all'ombra dei dinosauri Grazie a te